Ma come caspita fa? si chiedeva all'armatissimo a Sorrosa, in mancanza di corrente a funzionare lo sciacquone. Profanato dal dubbio e non poco risentito nel bel mezzo della lezione, agguantò il telefono e, ex cattedra, formò il numero dell'uscita di sicurezza dei suoi quiz aristotelici, Giulio Ferroni. Ferroni, rabdomante dell'ordito letterario, nonché allevatore di formiche da corsa, compulsò testi, interpellò Cap Kennedy, buttò giù dal letto Paola Borboni. Il tutto in un quarto d'ora frenetico, poi emise il seguente, guarda caso, illuminato responso. Lo sciacquone è omologo alla poesia, perché entrambi dirompono. La poesia ha una precisa valenza consentanea alla scarica elettrica. L'unica cosa che può incepparla sono le elucubrazioni dei poeti cerebrali, che si arrampicano sugli specchi per scriverla. Chiaro che in mancanza d'ispirazione manca anche la scarica elettrica, che la fa giungere a destinazione. La onde ove per cui lo sciacquone funziona comunque, perché ispirato a sufficienza dalla nobile incombenza. La poesia gorgoglia, si arrabatta, ma non quaglia. Rimane una scommessa inconcludente, un transito di stelle sciroccate, un cortocircuito reticente nell'orizzonte d'attesa del poeta.